Noi candideremo un candidato leghista, una donna o un uomo e se la coalizione vorrà far parte di questa nuova e affascinata avventura, bene. Altrimenti noi siamo prontissimi ad andare da soli con una lista lega, una lista zaia, una lista autonomista e chi ci sta per il buon governo dei Veneti. L'attacco è diretto agli alleati di Fratelli d'Italia, mai come ora, così lontani. Non usa mezze misure l'assessore regionale e storico esponente leghista Roberto Marcato all'indomani della bocciatura in Commissione Affari Costituzionali dell'emendamento che avrebbe concesso ai governatori delle regioni di candidarsi per un terzo mandato. Per il sottosegretario Massimo Bitonci sono i cittadini a dover scegliere i propri amministratori. È anche vero che decide la gente poi se il sindaco o il governatore ha ben operato oppure no, quindi non si toglie la possibilità, anzi è un ampliamento della democrazia. Quindi ho trovato assolutamente fuori luogo il fatto che si è voluto spostare magari ad altri provvedimenti o dire cominciamo a ragionare su un provvedimento complessivo. Io penso, come dice Luca Zaia, che la partita non sia assolutamente chiusa. Per il segretario regionale del Carroccio, l'onorevole Alberto Stefani, le elezioni regionali non seguono le dinamiche spesso lideristiche delle votazioni nazionali. La Lega ha una forza sul territorio molto importante che somma alla forza del partito anche tanti amministratori, tante liste civiche territoriali, tanti gruppi che sul territorio hanno il loro consenso e l'hanno dimostrato anche alle ultime regionali. Il consenso che c'è alle elezioni politiche non è lo stesso che c'è alle elezioni territoriali. Ovviamente noi faremo il nostro meglio ma la nostra collocazione è il centro-destra e su questo lavoriamo. Il diretto interessato, il presidente Luca Zaia, sottolinea come chi sia chiamato a decidere per il terzo mandato, i parlamentari, non siano allo stesso tempo eletti direttamente e nemmeno soggetti a vincoli di mandato. Ho ancora quest'anno e mezzo, due anni, non si è ben capito se ci sarà una proroga oltretutto. Nel frattempo cerchiamo di capire, siccome qualcuno ha detto che il Parlamento è sovrano, vedremo quanto la sovranità saprà esprimere il Parlamento. Ma soprattutto è una sovranità che io immagino dovrà essere rispettosa della volontà popolare. Trovo strano che ci siano persone che votano COND a favore del blocco di mandati di sindaci e presidenti di regione che sono eletti direttamente dal popolo e poi va a vedere il curriculum di alcune persone da 4-5 legislature che sono in Parlamento.